Musica Grazie a tutti Perché dall'anno prossimo a settembre partirà la serata Bughi come una volta tutti i martedì Sì quest'anno a settembre, cioè prossima stagione estiva invernale La maestra Nadia perché da quest'anno è venuta qui ad aiutarmi in corsi e l'anno prossimo ci seguirà con tutto il suo gruppo Nadia Pellegatta Eccola qua Poi stasera c'è anche venuto a trovare il consigliere nazionale della nostra associazione nazionale maestro di balle Umberto Casati, vorrei qua anche lui Ancola qua, non ti avevo visto tutto, grazie Niente, vi ruberemo solo dieci minuti Adesso chiamerò qua in pista il gruppo Forever Bughi che farà un'esibizione Maria Michele, Pasquale Laura, Ale Alba, Mauro Aminuela, Domenico e Carmela Vuoi dire qualcosa? No No, radio vuoi dire il presentato gruppo? No Allora Siamo pronti che ruberemo poco tempo e poi riprenderemo a ballare Vai Ale quando sei pronto Siamo pronti che ruberemo poco tempo e poi riprenderemo a ballare Siamo pronti che ruberemo a ballare Siamo pronti che ruberemo a ballare Siamo pronti che ruberemo a ballare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti